Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Quest'oggi cominciamo parlando della Scuola Regionale di Politica e in particolare dello Statuto della Fondazione Ballini. Il tema è molto caldo all'interno dell'Assemblea Toscana con gli interventi a questo proposito dei consiglieri che andiamo a sentire. Continua il dibattito all'interno dell'Assemblea Toscana sull'istituzione della Fondazione per la Formazione Politica e Istituzionale intitolata alla memoria dell'ex consigliera regionale Alessia Ballini, scomparsa nel 2011. Le attività della scuola creata per imparare a fare politica e amministrare saranno gratuite e riservate a consiglieri e amministratori della regione e dei vari enti locali tra i 18 e i 40 anni. Serviranno a promuovere lo studio delle materie relative all'attività politico-amministrativa con particolare riferimento a scienze politiche e dell'amministrazione, politiche di genere, diritto e economia, contabilità pubblica, storia e sociologia. Come Forza Italia fin dall'istituzione di questa legge che prevede la scuola di formazione politica abbiamo detto di dare 100.000 euro in un momento difficile come questo per imprese e per famiglie ad una fondazione che deve formare i politici è estremamente assurdo. Per noi la formazione politica è quella che fai sul campo, fai il consigliere di quartiere, parli con le persone, fai il consigliere comunale, stai a giro, produci atti, stai al fianco di chi l'attività politica la fa ogni giorno. Questa è la formazione politica. Non occorre per noi fare una fondazione, mettere 100.000 euro, magari assumere un direttore generale, un revisore dei conti, alcuni dipendenti per fare formazione politica. La formazione politica la si fa sul campo e soprattutto in un momento difficile come questo non si possono mettere 100.000 euro per costituire una nuova fondazione. È assolutamente illogico, per noi anche inspiegabile ai cittadini. Ecco perché ci siamo opposti dall'inizio, ecco perché abbiamo chiesto un rinvio al prossimo Consiglio regionale. Crediamo che la formazione politica sia un dovere da parte di chi in questo momento ha avuto la fortuna, l'opportunità o anche l'intuizione o in alcuni casi anche il destino favorevole di poter fare politica. È un privilegio, in alcuni casi è un'opportunità, in altri un lavoro, in altri deve essere un'opportunità. Cioè noi dobbiamo consentire a tutti di poter giocare la propria opportunità. Per consentire a tutti di avere l'opportunità di ricoprire domani un ruolo che oggi noi magari ricopriamo perché eletti da cittadini dobbiamo affiancare alle opportunità della democrazia, le opportunità del sapere e della cultura. Sapere e cultura si determinano mediante formazione e chi in questo momento ha delle opportunità le deve concedere domani agli altri. Quindi è un grande assunzione di responsabilità che coinvolge il Consiglio regionale, coinvolge l'UPI e i comuni. Quindi province, comuni e regione insieme per dare opportunità ai giovani di diventare magari un domani loro stessi consiglieri regionali. In realtà è tutta ancora in rampa di lancio perché la affronteremo tra qualche settimana perché comunque sono necessari degli approfondimenti. Diciamo che il principio a noi convince, cioè la necessità che la regione toscana investa per formare anche gli amministratori del territorio. Quindi a noi piace il principio per il quale un giovane che si avvicina alla politica e che si trova a amministrare abbia una guida, abbia una formazione, abbia un'istruzione. Ci sono degli aspetti che invece convincono un po' meno, ecco perché ancora non è arrivata in porto la nascita della scuola. Tra questi ci sono sicuramente l'assunzione del personale. Vogliamo capire se questa scuola ha dei costi o no perché oggi è impensabile dover ricadere sulle spalle dei cittadini per formare gli amministratori che dovrebbero amministrare i cittadini. Un altro aspetto che ci convince poco è il mancato coinvolgimento per esempio delle università. In Toscana abbiamo tre università di eccellenza che a nostro modo di vedere potrebbero contribuire alla formazione di questi futuri amministratori. Il principio per il quale l'amministrazione forma anche gli amministratori invece ci piace e quindi speriamo di poter arrivare presto a un soggetto che non ha costi ma che ha dei benefici per i cittadini. Noi crediamo che l'idea che la Regione Toscana debba istituire una scuola politica sia fuori contesto in questo momento storico e soprattutto non opportuna. Le scuole di politica si fanno all'interno delle comunità, un tempo si facevano nell'associazionismo, tutt'oggi si fanno ancora all'interno dei gruppi politici e noi stessi facciamo questo tipo di scuola ma non certo a carico della collettività. E questo secondo me è fondamentale. Il fatto che sia indirizzata poi soltanto ai giovani lo limita ulteriormente, però secondo me è proprio sbagliato concettualmente e fuori tempo data la contingenza, la situazione di emergenza in cui stiamo vivendo. Dal Consiglio regionale arrivano anche incentivi per quanto riguarda la lettura, soprattutto per i più giovani, iniziative che cercano di promuovere proprio queste attività. Vediamo quali sono. Passa con voto unanime una risoluzione di iniziativa della Commissione Cultura sul rafforzamento delle attività di promozione della lettura nelle scuole e alla possibilità di consentire le uscite didattiche per l'accesso ai musei del proprio territorio. La deliberazione impegna la Giunta regionale per quanto di propria competenza a rafforzare questi progetti per promuovere la lettura in classe mediante attività programmate di lettura comune e condivisione dei testi, in particolare sostenendo la diffusione della mezz'ora di lettura individuale all'inizio di ogni giorno di scuola, anche coinvolgendo, quando possibile, le associazioni e gli operatori del settore presenti sul territorio. Due settori di intervento, la lettura e la frequentazione dei luoghi e delle istituzioni museali e culturali in genere. Sulla lettura si propone e si impegna la Giunta a estendere e promuovere il progetto Leggere Forte, già attivo, che riguarda la lettura d'alta voce a bambini fin dall'età più piccola perché è un progetto che è dimostrato scientificamente, favorisce lo sviluppo delle facoltà cognitive e poi si propone di introdurre, analogamente a quanto accade in molti paesi del Nord Europa, ad esempio, la mezz'ora di lettura silenziosa in avvio della giornata scolastica. Questo per i ragazzi più grandi che sono in grado di condurre una lettura individuale e privata di loro libri. Questo per portare la lettura individuale ad avere cittadinanza piena nella pratica, nell'abitudine di comportamento della frequenza dello spazio scolastico, promuovendo in questo modo appunto la lettura in generale. La mozione poi aveva un contenuto riguardante lo svolgimento delle lezioni che hanno un contenuto più legato alla storia dell'arte, alla storia culturale dei territori, promuovendo, invitando le scuole a promuovere iniziative che facciano svolgere quelle lezioni in contesti diversi dalle aule, in musei, in teatri, in luoghi monumentali. Questo perché può consentire anche di affrontare meglio questo tempo di pandemia qualora per fortuna si potesse continuare ad avere la didattica in presenza e qualora disporre di spazi alternativi in cui appunto stare più distanziati e poter fare lezioni che hanno nel contesto maggiore fonte di ispirazione, secondo noi potrebbe essere un buon modo per fare meglio scuola, ma anche per affrontare meglio questo frangente difficile della scuola in tempo di pandemia. L'aula unanimemente ha approvato e quindi siamo stati molto soddisfatti del lavoro fatto in commissione. È stata una proposta che è partita da varie audizioni con persone che già avevano messo in atto il progetto Leggere Forte, è stata discussa in commissione, sono state apportate delle modifiche migliorative, tra cui quella che ha fatto la Presidente Giacchi di portare anche gli studenti nei musei a fare lezione per lo meno di storia dell'arte. In più io avevo proposto ed è stato accettato di fare entrare nelle scuole associazioni, persone dello spettacolo, del territorio per poter dare un contributo proprio a Leggere Forte. Parliamo anche di Europa con il Consiglio regionale che si appresta a celebrare la festa dedicata all'Europa e all'Unione Europea con fondi proprio destinati dal bilancio dell'Assemblea Toscana. Cerchiamo di capire quali saranno le iniziative in particolare in questa giornata e in questa festa dedicata all'Europa. 115.000 euro di finanziamenti stanziati dal Consiglio regionale per la festa dell'Europa istituita con una proposta di legge di iniziativa della Commissione Politiche Europee e Relazioni Internazionali che ha come primo firmatario il suo Presidente, Francesco Gazzetti. Il 9 maggio la Toscana celebrerà questa ricorrenza con varie iniziative rivolte prima di tutto al mondo della scuola e ai giovani con l'obiettivo di favorire una diffusione della cultura europea. Noi abbiamo cercato con il lavoro dei commissari, di tutti i commissari della Commissione Europa, scusate il bisticcio di parole, di essere allineati e soprattutto aderire al mandato che ci è stato affidato. È una commissione che, come ben sapete, da speciale è diventata permanente. In questi primi mesi di lavoro sta portando avanti tutta una serie di attività, audizioni, presentazioni di atti e anche una legge che permetterà il 9 di maggio, da qui in avanti, di vedere anche in Toscana iniziative e momenti di riflessione per non tanto festeggiare, ma riflettere sui temi connessi all'Europa. E questo è frutto, lo voglio ricordare e lo faccio sempre, del lavoro dei commissari in seno alla Commissione Europa. Lo spunto ce l'aveva dato in una seduta il Presidente Stella, ci abbiamo lavorato. Ringrazio il Presidente Marseo per la sua costante anche azione di collaborazione e tutti gli uffici e poi siamo riusciti, con due votazioni, di portare a casa anche questa legge. Permettetemi di sottolineare l'aspetto che spesso e volentieri la nostra comunità vede distante l'Europa. Non abbiamo tante conoscenze di quelli che sono i diritti e i doveri che noi abbiamo nei confronti dell'Europa, ma neanche quelli che l'Europa ha nei nostri confronti. Per cui credo che entrare in merito in una giornata di festa come conoscenza, come vicinanza, come far sapere a tutti i nostri concittadini quello che dovrà essere reciproco rispetto nel mondo del lavoro, degli investimenti, di quello che sarà poi il Recovery Fund, la Next Generation EU, che verranno poi distribuite. Io credo che sia giusto che siano stati messi dei fondi a disposizione proprio per questo. Ma non mi fermerei soltanto lì perché all'interno della Commissione ci sono state delle proposte condivisibili, come ad esempio portare nelle biblioteche la conoscenza dell'Europa, portare nelle scuole la conoscenza dell'Europa, perché credo che sia fondamentale che le generazioni a venire, visto e considerato quello che sta succedendo in questo momento con un impegno economico dell'Europa nei nostri confronti, ma anche un impegno nostro nei confronti dell'Europa, anche loro debbano essere messi a conoscenza. In chiusura parliamo anche di sport con il velista Giancarlo Pedote, che è stato premiato proprio nel Consiglio regionale con una targa per la sua lunga carriera che è culminata recentemente nel Giro del Mondo in solitaria, una vera e propria impresa. Io mi sono appassionato nel Golfo di Follonica, dove ho iniziato a fare i primi bordi sul Windsurf, poi la mia passione è proseguita verso delle imbarcazioni di taglia più grande, ho cominciato ad essere un regatante su barche armatoriali e poi dalle barche armatoriali mi sono spostato su un progetto personale, ho avuto la grande fortuna di incontrare il mio sponsor Prismian Group che mi segue da 14 anni e con loro siamo arrivati assieme al Vande Globe. Dalla vela del Windsurf nel Golfo di Follonica alla sfida in solitaria più prestigiosa per i navigatori oceanici, la Vande Globe, la circunnavigazione completa del globo in barca a vela senza scalo e senza assistenze, compiuta in 80 giorni qualificandosi nella top 10. A Giancarlo Pedote, velista nato a Scandici 45 anni fa, è stata consegnata la targa del Consiglio regionale della Toscana, laureato in filosofia da 12 anni in navigatore solitario, già autore di due manuali tecnici, si appresta a scrivere un libro su questo suo ultimo successo, vincendo gli imprevisti e la paura. È una grande fierezza, è un grande onore essere qui nella vostra sede, poiché chiaramente ho mantenuto con la Toscana, con la mia terra, e con la città di Firenze un grande legame. Firenze mi ha ispirato la cura del dettaglio e sono fiero di portarla dentro di me. Mi piace molto avere delle opportunità per oltrepassare i miei limiti, per trovare sempre dei nuovi obiettivi da raggiungere, per superare me stesso. Ho trovato nello sport della vela queste grandi opportunità, realizzare il Van de Globe, l'Everest della vela, il giro del mondo in solitario, senza scalo, senza assistenza, è stata una grande opportunità e una grande soddisfazione. E con questo è davvero tutto, la nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui. Grazie per l'attenzione, vi ricordo sempre che potete seguire anche online tutte le attività e le notizie riguardanti il Consiglio regionale all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie ancora per l'attenzione e buon proseguimento su RTV38. Arrivederci. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori.